A tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Buongiorno e buon sabato a tutti quanti. Questa è una grande gioia che il Signore ci ha dato anche questo nuovo giorno con quella semplicità, quell'amore, quella tranquillità che abbiamo potuto assaporare durante la notte mentre il Signore ci pullava tra le sue mani. Gloria a te, Signore. Alleluia. Mie cari nella grazia, stamattina il social Facebook mi ha mandato questo foglio dove dice anche i tuoi amici hanno messo mi piace ai tuoi posti. 98.000 volte siamo semplici e siamo felici che tu stia condividendo il momento della tua vita con le persone importanti per te su Facebook. Ecco alcune foto al cui i tuoi amici hanno messo mi piace. questa è una grande gioia non per me ma anche per il Signore perché ciò che sto facendo è piacevole a tutti i miei fratelli, sorelle, amici quando hanno veramente questa gioia di sapere che la vita continua con la serenità, con la felicità arrivano già i posti di quello che ho pubblicato. Questa è una grande generazione che Dio è con noi e con noi rimane sempre. Bene, mie cari nella grazia, purtroppo sono dispiaggiuto, molto dispiaggiuto per i social Facebook che mi ha bloccato come fare video in diretto. Purtroppo sicuramente ho trasmesso questi link molto più veloci di quando il meccanismo che hanno cuore e condividendo molto veloci questi link, questi video mi hanno bloccato di fare i video in diretto. Quello che chiedo è che alcuni fratelli e sorelle ti interessino di questo, di scrivere a Facebook di potermi dare libertà di fare i video in diretto. Questa è una clemenza che chiedo a Facebook e anche un invito a voi di potermi aiutare perché vorrei condividere quella gioia in diretta con tutti. Se ho sbagliato, perché ho condiviso molti link, o sto chiedendo scusa, cercherò di mandare di meno link, di poter essere idoneo con il meccanismo di Facebook. Purtroppo questa è la vita, questo è il concetto e noi dobbiamo aderire al concetto di ciò che i meccanismi ci mettono davanti. Detto questo, vogliamo ora dare spazio alla preghiera. Alleluia, gloria a te, signore. Che nelle possibilità, ora o quando vedrai il video, di mettere sempre la preghiera insieme a me, mentre io sto pregando. Ecco. Bene. Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo veniamo a te stamattina, oggi, come il giorno del sabato. veniamo a te per prima di ogni cosa di ringraziarti di quello che hai fatto in questi giorni, come tu mi hai aiutato durante questa settimana, ero molto ammalato e tu mi hai guarito molto presto, molto presto, molto presto, grazie, signore. Questa è una consapevolezza che ho potuto affurare di persone, perché solo la tua mano poteva fare questo e io ti rendo lodo, lode, ti rendo lode e magnificenza. l'attitudine è tutto. Grazie papà. Alleluia. Oggi padre, ti voglio chiedere grazie anche per i miei fratelli e sorelle che tu hai potuto aiutare, sicuramente come hai guarito me. hai guarito molte altre persone, perché quando io ti chiedo preghiere, non te le chiedo soltanto per me, ma anche per i miei signori, per i miei fratelli, sorelle, amici, parenti, famigliari. Ti prego stamattina, ancora ti voglio presentare le famiglie di tutto il mondo, di tutti i miei fratelli, di sorelle e amici, parenti, di poterli aiutare come hai aiutato me. grazie papà ti ringrazio e ti lodo con tutto il mio cuore con tutta la mia anima con tutto me stesso perché l'onore va a te signore perché tu sei il re del re tu sei l'altissimo l'onore va sempre a te attraverso il tuo figlio Gesù Cristo che tu hai mandato in questo mondo per dare la sua vita per ognuno di noi e attraverso lui stamattina sono qui alla tua presenza signore in ginocchio davanti a te signore grazie papà alleluia fuori a te papà alleluia grazie 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 Grazie, 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 alleluia, 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 gloria, gloria a te, santo, santo, santo sei seguito. Alleluia, 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 grazie, grazie, avevo proprio bisogno di questa tua pensione, alleluia. Alleluia, alleluia, gloria a te, e grazie Padre per ogni cosa, Signore, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto, in eterno. Amen, Amen. Gloria a te, Signore. Santo sei, Signore. Mia cari, nella grazia, il Signore è misericordioso. Scriviamo il messaggio di stamattina. Buon cerno. Stamattina. Signore. 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 la risposta alla nostra preghiera è l'ore perciò siamo consapevoli di essere benedetti principi principi suoi amén alleluia io nel frattempo vi saluto nella pagina del signore perché il tempo stringe come faccio sempre vi abbraccio forte 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 anche due volte oggi vi sento di abbracciarvi due volte perché oggi c'è una benedizione in più del signore e vi bacio quattro volte ci sentiremo ci sentiremo più tardi oggi faccio mezza giornata e il pomeriggio ci sentiremo molto più spesso pregate che il social facebook mi dia libertà di fare video in diretta così ci sentiremo così ci sentiremo a raggio di millesimo di secondo in diretta ho molte cose da dirvi moltissime moltissime che il signore che il signore ha scaricato come una moltitudine di messaggi nel mio inconscio nella mia mente nel mio essere nel mio cervello nella mia persona per trasmetterle a voi cari e nella grazia vi abbraccio pace al signore da fratello angelo piccone che vi ama con tutto il cuore amen capire